dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani non è costui il falegname il figlio di maria il fratello di giacomo di ioses di giude e di simone e le sue sorelle non stanno qui da noi ed era per loro motivo di scandalo ma gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua e lì non poteva compiere nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì e si meravigliava della loro incredulità gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando parola del signore oggi marco ci riporta insieme a gesù evidentemente a nazareth nella sua patria come dice il vangelo dopo aver iniziato il suo ministero aver fatto tanti miracoli tanti discorsi tanti incontri gesù torna nel paese dove è cresciuto e dove tutti lo conoscono infatti tutti dicono ma questo è il figlio di maria i suoi fratelli e le sue sorelle qui non entriamo nella questione dei fratelli e sorelle di gesù diciamo i suoi parenti il suo clan familiare e tutto qui l'abbiamo visto crescere adesso come dire cosa gli è venuto in mente invece di rimanere stupiti meravigliati ammirati dalla sapienza dalle diciamo dalle nuove capacità che vedono in gesù loro rimangono scandalizzati cioè questa novità che porta gesù è un ostacolo non invece una via alla fede all'accoglienza all'incontro e gesù rimane stupito meravigliato dalla loro incredulità nonostante questo qualche qualche malato lo guarisce come dire gesù continua a fare il suo lavoro anche davanti al rifiuto anche davanti allo scandalo all'opposizione cos'è che scandalizza i nazaretani la sua normalità il fatto di averlo conosciuto come uno di loro e non accettare che adesso invece non è più come loro ecco credo che sia un grande insegnamento anche per noi cos'è che scandalizza nella manifestazione di dio che ci viene raccontata nel vangelo nella rivelazione cristiana il fatto che dio passa proprio attraverso l'umano attraverso la banalità tra virgolette della quotidianità delle cose normali degli incontri dei volti ecco noi ci aspettiamo che dio si manifesti sempre attraverso miracoli attraverso segni grandiosi attraverso cose straordinarie fuori dall'ordinario il vangelo ci dice che invece dio si manifesta proprio nell'ordinario in quella in quel lavoretto da fare in quel piccolo incontro in quella fatica di stare insieme in famiglia in quell'amicizia da coltivare in quel povero da aiutare in quel piccolo servizio per la comunità lì c'è la presenza del signore e questo ci fa fatica facciamo fatica a riconoscerlo facciamo fatica ad accogliere un dio che entra nella nostra quotidianità ma per trasformarla ma per farle acquistare una profondità un senso e un valore a noi sconosciuti ecco chiediamo al signore la capacità di stupirci la capacità di riconoscere dentro le piccole cose dentro quella normalità di relazioni di rapporti di impegni la sua presenza il suo volto che si viene a offrire al nostro bacio ecco in un libretto molto bellino che si chiama la vita del piccolo placido che è praticamente un fumetto scritto da una suora tanti anni fa e che si trova ancora in commercio perché è un classico il piccolo placido dice i suoi sì sì cioè i suoi piccoli sì alle incombenze quotidiane perché lì il volto di dio ci viene incontro speriamo di saperlo riconoscere incontro speriamo di saperlazioni